La Guardia Costiera di Riposto, l'ufficio circondariale marittimo, augurano a tutti di passare delle felici festività, un buon Natale e un buon inizio dell'anno nuovo. L'occasione penso sia indicata per raccomandare anche a tutti di preferire esercizi di vendita di prodotti ittici autorizzati, di comprare nei negozi. È un periodo di forte domanda di prodotto e quindi è importante che ogni consumatore ricerchi prodotto etichettato e con la provenienza certa per passare delle buone feste e mangiare del buon pesce. Auguri a tutti.